Musica Questo bancone, il bar è chiuso, la discoteca, la mela è chiusa La data di apertura purtroppo è ancora un'incognita, speriamo di riaprire quanto prima Quanto mobilita il mondo della notte in Italia? Abbiamo circa 90.000 addetti, fatturiamo circa 5 miliardi all'anno e nei nostri locali passano 4 milioni di clienti Voi siete disposti a rimodulare sia pur temporaneamente la vostra attività? Abbiamo fatto una richiesta al governatore De Luca di darci la possibilità, per chi lo può fare di utilizzare i nostri locali come lounge bar e come ristoranti in questo mondo c'è tanta gente che ci vive, tante famiglie, tanti ragazzi che si pagano gli studi da due mesi e mezzo senza nessuno stipendio Grazie a tutti!